La litele coltellate e il sangue. Attimi di terrore, ieri pomeriggio dopo la Movida scatenata di sabato a Napoli nel cuore del centro storico, Piazza Bellini, uno dei principali crucevia della Movida, si è trasformato in un mattatoio. L'area pedonale dei giardinetti era già affollata da tanti clienti di bar e ristoranti quando è avvenuto il feroce accoltellamento. L'uomo raggiunto dai fendenti è gravissimo al vecchio Pellegrini, si tratta di un capoverdiano regolarmente residente a Napoli. Anche l'aggressore, sulle cui tracce sono gli uomini della mobile, sarebbe un capoverdiano. Immagini terribili mostrano una larga pozza di sangue proprio alle spalle della statua della piazza. Le ipotesi degli inquirenti spaziano tra un regolamento di conti tra connazionali o forse una vendetta maturata negli ambienti dei senza fissa dimora. Un episodio gravissimo in una delle piazze della Movida di Napoli, che è tornata scatenata da sabato notte. Il primo weekend, dopo la fine del lockdown, sembra aver già dimenticato i morti e contagiati dal coronavirus. Notte di Movida scatenata sul lungomare, traffico impazzito e divertimento fino alle 4 del mattino. I marciapiedi sono stati utilizzati come corsie preferenziali d'auto e moto, nonostante i locali della Movida abbiano rispettato il limite della chiusura alle ore 23. E scatta il patto governo comuni per reclutare assistenti civici tra disoccupati, cassi integrati e chi ha il reddito di cittadinanza. In giro con la pettorina non saranno pagati e non faranno gli agenti, ma contribuiranno a far rispettare le regole. In questo periodo pandemico, quale migliore occasione di affidarsi alle guardie particolari e giurate per una tutela sinergica e professionale a tutela della collettività e della rispubblica?